Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi andiamo a giocare a... Beh, lo sapete no? Mario Galaxy. E vai, si parte ragazzi, si parte! Caldissimo, nuova galassia. E si vola! Va bene, allora cosa abbiamo fatto? Galassia dolce ape. Vai in questa galassia, perfetto, vai andiamo. O vediamo che succede, eh. Mario ape spicca il volo. Sapete, una delle trasformazioni più brutte di Super Mario, credo che dopo Mario Gatto sia proprio Mario ape. Vabbè, non importa. A questo gioco qua però si perdona, perché non è che sia brutto, però è un po' una lattura di gacchia. Allora, dove dobbiamo andare? Signora ape, come sta? Ti trovi nel regno dolce ape. La regina governa queste terre. Ok, va bene. Ma adesso se le api parlano tutte così, lo so apposto. Le nuove api devono rendere omaggio all'ape regina. Bene. Qua? Quella! Guardate. In che momenti vado subito a finire male. Allora, qua raccogliamo un po' di... Ah, ecco, il monetone mi faceva... mi faceva pigliare... Vabbè, cagare. Mi faceva pigliare coso? Ah, andiamo... andiamo a prendere il fungo ape. Vedi la cascata? Dietro di essa si trova il castello dell'origina. Gne, gne, gne. Ok. Dunque, prendendo questa, noi ci trasformeremo in ape. Sei Mario ape! Tieni premuto B per volare! Però non ti hanno detto che premuto B lo puoi tenere proprio poco. Allora, dai che ci arriviamo, su. No! La cosa brutta di Mario ape, sapete qual è? Che se tocca l'acqua, Mario ritorna ad essere il... il solito... Il solito Mario di sempre. Ma noi possiamo fare cose? Quella! Quella! Mario combo! Ecco. Ah, lo sapevo io. E non solo mi ha tolto la trasformazione, ma ovviamente mi ha anche tolto... Questa cavità conduce al castello! Quello è il nostro castello! Ma l'avevo quasi immaginato, sapete? Ah, qui non c'è niente che mi interessa. Perché qua c'è... Ah, ok. Cose che posso raggiungere solo con Mario ape, ovviamente. Ok, vai Mario ape! Si vola! Porca miseria che mi ho metto e vado a finire nell'acqua. Mario ape! Mario ape! Vai! 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 Ronza fino al... No, mi hanno tolto... Salto quello... Quello laterale? Eh sì, perché ormai vola, che gli frega di averlo. Vabbè, dai, andiamo qua sotto e raggiungiamo il... Ecco, c'era su... Scivola per noi, ragazzi! Vabbè, mi sono agitato per nulla. Il castello si trova oltre questo muro. Le apri non mentono mai. Bene. Ok, andiamo di qua, allora. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-m. Fiorellini, se gli giro sopra non succede niente. Ah, però guardate, li posso impollinare! Mario, impollinali bene! Cioè... No... E ovviamente... Aspetta un attimo, eh. Se io volo e vado sul miele... Anche trasportare il miele fa qualcosa. Allora... No, sti cosi di odio, maledetti! Allora, facciamo così. Ok, presi. Vai, andiamo. Tra il tempo lì ci sono palle che rotolano. Senza alcun motivo. Oh, guarda che bella laghetto che c'è qua. Ehi. Chi t'ha detto di sputarmi con la roba lì addosso? Riuscirò a prendere... L'ho presa, l'ho presa, l'ho presa! E vai! Non ci speravo minimamente, non ci speravo. Allora, facciamo così. Di qua cosa c'è? Allora, è qui così la mano rotto. Le va... Ballicchie. Pim! Guarda, guarda quanta roba c'è lì sopra! Allora, spruzzano l'acqua quelli. Cerchiamo di evitarli. Quindi, li abbiamo evitati in modo... In modo grandioso, direi. Qua c'è una stella. Ah, ok. Una di quelle... C'entra così. Sali, 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 sali! Ce la fa, ce la fa! E si va al castello, ragazzi! Siamo arrivati dall'ape... Siamo arrivati per un cacchio dall'ape. Queste pareti sono impregnati di miele. Le api possono scalarle senza difficoltà. Attaccati! Attaccati e arrampicati, va bene, grazie. Attaccati. Allora, ecco. La cosa di Mario Ape che mi fa un po' storcere il naso è proprio questa. Perché cambia la gravità in base a... Quando sei attaccato al miele, in poche parole. Quindi cambia la gravità perché stai attaccato lì. Ma se cadi vai proprio giù. Quindi, insomma, la gravità l'hanno studiata un po' male. Secondo il mio modesto parere... Sto a morire. E chi saresti tu? Dopotutto il tuo nome non è importante. L'essenziale è che mi aiuti. Mi brude tutto il corpo, eh? Ho bisogno di un dottore. Conosco un dottore di nome John Sin. Vabbè, a sciassare, va. A posto? Quindi devo andare a grattarla? Signorina Ape, se non si offende. Io la vengo a grattare tutta. Va che bella smappargnona che c'è lì, va. Adesso vengo a grattarti io, vengo a grattarti. Ma mi posso arrampiccare su di te? Ma guarda Mario. Guarda Mario come se la spupazza. Se lo sapesse la principessa P... Dove vai Mario? Dove vai Mario? Mario, ma dove vanno cacchio? Vai Mario che... Te fa un culo così, Pitch. Grazie dottore. Ora sto molto meglio. Se mi ricapita ti prego di aiutarmi di nuovo. Insomma, alla petta gli è piaciuta questa... Questa passata che gli abbiamo fatto. Andiamo. Eh lo so Mario che non te vuoi staccare, però... Non è che puoi stare sempre attaccato al culo di quello. Andiamo! E andiamo a finire dove? Qua, ma nel posto di prima. Noi eravamo già qua. C'è un Todd esploratore? Ah, un'ape! Cosa? Sei proprio tu, Mario? Anche noi siamo scappati dal castello di Pitch. Ma mentre scappavamo e pensavamo che Bowser ci avrebbe raggiunti, abbiamo perso Luigi. Ah, dimenticavo! Abbiamo trovato una super stella. Ne avrai di certo bisogno. Tieni, prendila! E vai! Cioè, a tutto sto casino vanno a prendere questa. Che mi ha dato la Todd. Manco la regina. Gli è fregata un cacchio la regina. Guardi, vorrei essere grattata. 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 Ok! Beh, ma... Adesso chi se la ricorda la voce di Rosalinda? Devo parlare con lei, ma? Il record di monete è 30. Uella! Uella! Abbiamo scoperto una nuova galassia. Nel frattempo continuano ad arrivare... Ti chiami Mario, vero? L'ho sentito dai tuoi amici, che sono venuti prima. Mario, questo nome ha un che di nostalgico. Vuol dire? Ma cosa vuol dire? I tuoi amici sono nel garage. Buttati proprio nel garage. Ma pezzenti, andate bene là, che c'è frega di... Credo che vogliano dirti qualcosa, quindi prova ad andare lì. Va bene, Rosalinda, andiamo. Parliamo con lui, dai. Parliamo con lui. Le super stelle sono nostre amiche. Salvole! Scusate. Allora, andiamo. Vai, andiamo nel garage a vedere i nostri amici. Questo cosa è uno sfavillotto? Dove siamo? Voglio tornare subito a casa. Però lo dice con... Avete visto che tono che aveva? Aveva proprio la faccia felice. Dove siamo? Voglio tornare subito a... Ma sì, ma... Insomma, fai un'area... Adesso era un'area più nostalgica. Sembrano strafatti. I funghi che si fanno di funghetti. Oh, Mario! Come vedi, siamo riusciti a scappare e a rifugiarci qui. Ti aiuteremo anche noi a prendere le super stelle. E a salvare la principessa Peach. Conta pure su di noi. Mario! Ci penseremo noi! Ah, è troppo grande. Ah, vabbè, dai. È tutto lì quello che mi dovevi dire. Pare che gli sfavillotti stiano costruendo una navicella spaziale. Quando sarà pronta andremo a salvare la principessa Peach. E a cercare le super stelle. Che bella che sarà una navicella spaziale. Poi c'è una nota musicale che non lo so. Forse sta cantando. Andiamo, andiamo. Andiamo a... Un fughetto tra l'allà. Così. Così, cose no sense a caso che escono dalla mia bocca. Meno male che escono dalla mia bocca. Perché se no. Putta il cursore verso la stella manina e premia. Ma lo sapevo già, amico. Pensavo che dovessi dirmi qualcosa di furbo. Invece no. Ah, dicevamo. Galassia dolce ape. Ma io direi che oggi finiamo questa. Proprio. E così. Facciamo un altro gameplay tranquillo. Che non dura troppe ore. E via. Strani eventi sulla torre. Voglio proprio vedere quali sono gli strani eventi sulla torre. C'è il margibruco. Se si chiama così. No, non si chiama così. Quello è un brugo. Un brugo del regno della brugola. Straparlo. Oggi straparlo. Oggi straparlo. Ma va bene così. No, è meglio. Cose a caso che escono dal... No, non è vero. Sono semplicemente delle... Dei cristalli di... Uuuuuh. Quanto mi piace fare questa cosa. Uuuuuh. Uuuuuh. No, no. Non ho preso nulla. Vaffanbrodo. Ehi, qua c'è... 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 Facciamo così. Pam. Pam. Ma veramente non riesco ad azzecchiarlo? Tutto lì? Per due? Ma va che... Come faccio a prendere quello, secondo voi? Ah, boh, faccio così. Guardate. Guardate come... Guardate come... C'è una M di Mario! Non l'avevo vista subito. Ok, vai. Andiamo. Qua c'è qualcuno? C'è qualcuno? C'è un cristallino. Ah, siamo tornati qua. Ma li mortacci tua. Eh no! Vai, 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 vai. No! Eh sì! Io mi impegno sempre quando c'è da fare queste cose. Allora, andiamo. Allora, dicevamo. Qua. Ok, andiamo di qua. Andiamo di qua. Tra l'allero, tra l'allà. Questo qua. E tiriamo una culata. TANTE GEMME! Io comunque sto... Sto facendo una partita abbastanza tranquilla perché continuo a non uccidere proprio dei nemici. Non li sto proprio uccidendo. Ciao, Bruco! Posso ucciderlo, lui? Ma povero! Non mi aveva fatto niente. C'è un ponte. È apparso un ponticello. Bello, bello. Schiacciamo qua, vediamo che succede. No, no, no. Ah, madò. Pensavo andasse giù. Ho detto qua, adesso andiamo a finire nel... C'è un buco. C'è un buco, ma Mario... Oh, Mario, ma lo vedi che c'è un buco? Non sono scemo, c'è... Ah, ho capito. Salve, io sono in formello. Se vuoi scalare questo muro, apri bene le orecchie. Quando tocchi un muro dopo un salto, premivi per un salto a parete. Con una serie di salti a parete potrai raggiungere posti molto alti. C'è un buco lì! Ah, ma non è un buco. È la cassa che è fatta così, ma va a cagare, va. Va bene, ok, ce l'abbiamo fatta. Queste pallotte qua? Si può fare qualcosa? Oh, no, le ho sparate... No, no, non le ho sparate io. Uscivano veramente da lì. Bene, adesso cosa dobbiamo fare? Ah, ho capito. Ho capito, ho capito. Questi due muri qua non sono messi lì per caso. Vai, Mario! Vai, Mario! Ok, siamo arrivati... Cosa è? Un cappello? Un cappirla? Io sono cappirla. Ok. Va bene, è andata. Qui, no! Dove vai, Mario? Mamma mia, quanto mi son caccato sotto. Andiamo sulla punta di questo... Questa cosa dalla forma ogellica. Stella, Stella! Spacco tutti, vi spacco. Guarda! Lo scamario sembra fatto di bamba. Guarda come corre veloce. Guardalo! Guardalo come corre. Ho diviso in sezioni, in più sezioni. L'ho spaccato, poverino. C'è più niente qua. Ma che è questa roba? Un mortaio? Perché non sa? Ah, perché è un albero quello. Va bene, ok. Ah, ok. Adesso vado di qua. Vado a finire al fondo dell'albero. Facciamo così, quindi prendiamo su... Culata! E via! Accidenti! Quegli scarafeitori hanno occupato la nostra torre di vedetta. Ok, ci penso... Che penso, mi... No, cosa fai, Mario? Che culo. Ok. Però no, forse devo andare un po' più in là. Guarda come... Come salta, Mario. Ok, c'è qualcosa che devo fare. E che in questo momento mi sfugge! Mi sfugge, sfuggissimo. Ok, abbiamo la tua energia, ora sei unità. Se scendi a tre, tornerà come prima. Grazie. Ok, scarafeitor, lì come cacchio si chiamano. Questo l'abbiamo ucciso. Adesso possiamo salire su. Ok, vieni, 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 vieni. Ci ha provato, eh. Ci ha provato quello schifoso. Ma siamo saliti... Ma allora perché mi hai messo l'altalena, se puoi per salire qui? Ma sì, ma cosa vuoi farmi? Te cosa vuoi farmi? Voi a uccidermi, volevano, pacca gara. E girano le pale! Quanto mi girano le pale anche oggi! Si parte, si parte, ragazzi, si parte! Ah, facciamo così, va. Questo salto qua salva sempre le cose. Sempre! Questa è la famiglia degli schifitor. Oh no! Allora sei un pezzo di me e anche RDA. Weee! Adesso ti aggiusto io, ah. Ok, e il piccolo l'abbiamo ucciso. Ma la madre si incavola come una bestia. E sono tutti i cacchi di Mario! Ma io vorrei sapere... Ma io mando cacchio, vai. Io vorrei sapere, no? Ma perché non mi sposto così se quella lì viene avanti? Non rischio più di cadere? Cioè, bisognerebbe anche essere un volpino, no? A pensarla così. E infatti... Dai, vieni! T'ho steccato! T'ho steccato! T'ho steccato subito così! Pam! E via. Curato in faccia e non si guarda in faccia a nessuno. Perché sfavillotto sarà di sudore. Sempre dentro sto cappello. O mai non si nasconde nelle mutande. Ok, ragazzi, andiamo a finire il mondo. Ok, vediamo un po' cosa succede adesso. Sono curioso di vedere cosa... Cosa capiterà in questa nuova stella. Contrattacco degli Scarafetor. Mortarci loro. Andiamo! Cacchio, vai! Contrattacco degli Scarafetor. Grazie a Dolce Ape. Ah, boh, boh. Si sono presi tutto il cucuzzaro qua. Bravi. Bravi e anche un po' infami, se vogliamo, eh. Ah, gli Scarafetor hanno invaso il nostro regno! Eh, sì, l'avevo intuito dal titolo della stella. Riuscirò a... A tirare una culata a questo? Scusate, mi stavo uscendo qualcosa che in realtà non volevo proprio dire, ma... Che l'avevo proprio sulla punta della bocca. Porca vacca. Voglio prendere il timing giusto per poterli abbattere. Non è questo il giorno. Dammi una moneta, dammi, dai. Se io vado a finire dentro sta bolla... Ecco. Pensavo proprio a quello. Ok, lì c'è un super fungo. Super fungo che andiamo a prendere subito. Alla faccia dello Scarafetor. Che muore subito. Senza... Senza... Cosa che possa farmi del gran danno. Eh, io sto andando dove? Cioè, cosa... Cosa c'ho da fare adesso? Ora, dove dobbiamo andare? Perché adesso mi sta rendendo un dubbio atroce, atrocissimo. Parato indietro. Non... Ah, qua tra l'altro la visione non la posso neanche spostare. Mortacci sua. Ok, dai. Moneta. Facciamo il giro attorno a questo bel troncone. Un bel troncone? Avete visto il bel troncone che c'era, eh? Niente. Troppo tardi. Troppo presto. C'è un tubo. Ma... Bacca immonda boia. Allora, sono proprio... Preso Era proprio quello che volevo dire Allora se andiamo nel tubo Spuntiamo qua Ma non ha senso questa cosa Dove devo andare? Eh dai Secondo me devo tornare dall'apere regina Ok me ne vado Tranquillo me ne vado Pischiato Aspettate forse ho capito Non c'è più il fungo da quella parte Ma dovrebbe esserci Mi sembra di aver visto un fungo qua Ok Tutto questo mi serviva per andare ad acchiappare il fungo Semplicemente hanno spostato la posizione del fungo Perché volevi mica tenerla lì Era già facile Era già pronta Che cosa sto facendo Non lo so Probabilmente dovrò tornare dall'ape regina E la regina è qua Oh i vicini sono venuti di nuovo a creare confusione Non è che potresti aiutarci Ti aiuto subito a mia regina Dopo ti do un'altra grattata se vuoi Questo sarà il mondo degli scarafetor Ce l'ho già l'ape grazie Però prendiamola non si sa mai Ci sarà un boss Qua ragazzi Sapete che non ne ho idea Questo Mario qua l'ho giocato talmente poco A un momento ho giocato più Mario Galaxy Eccolo Lo sapevo io Ok Vabbè dai è abbastanza semplice come boss questo Adesso comincerà a sclerare Gira come un pazzo Animo touch sua Vediamo un po' cosa c'è qua sopra Sono degli scarafaggili No 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 Ok Gli scarafaggili me lo sono solo Finti Dai 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 Mario 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 Ma che cosa Caga piccante Te lo sei mangiato il peberoncino eh Porca boia Guarda lì che ti appiattisco le chiappe E vabbè E vabbè allora se diventi rosso Allora sono cavoli Dove vai? Oh Pioggia di gem per noi Sali 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 Mario Ah adesso va un po' di sghimbecio anche sto infame Dove sei? Dove sei? Dove sei? No Guarda lì Cagabombe questo Io Ma io Gente che mangia sano Non esiste qua nel paese di Mario O si fanno di funghetti O mangiano Caboia Mi sono dimenticato che Se mi colpiva Non avevo più la trasformazione in ape Cosa stai facendo Mario Ape? Ma sei demente No 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 Ok 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 Ecco qua Sapete come si fa a morire in Mario Galaxy? Così Rifacciamolo da capo Non vedevo l'ora Non vedevo Praticamente l'avevamo finito sto boss Ma Ma Oh Mi sono dimenticato di volare Quanto sono Pipipipipipipipipipipipipo Dai su Dai Adesso sei abbastanza pirletto che ti faccio fuori Cioè il primo colpo vai abbastanza giù Secondo colpo anche vai abbastanza giù Il terzo colpo in teoria andresti giù anche bene Se non fosse che io pirla mi sono lasciato distrarre Volevo prendere la vita volevo prendere E me la sono presa Nel sedere Bacca Bacca boietta Niente No 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 Evita le palle bombose Grande Mario Vai Preso Sì abbiamo già visto questa scena Ma adesso sappiamo come andrà a finire Non ti preoccupare Mi faccio più fregare Ok dai andiamo Forza No 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 E vabbè però sei velocissimo sei Attaccati al fiore Attaccati e vola Mario E velo e anche cissimo Vai 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 Ok ok ci siamo Ci siamo Ma sto giro ci siamo Si è girato di traverso Sto scarafaggio maledetto Ma stavolta non mi preghi Niente Continuo a Ad evitarlo Devo anticipare la sua mossa Ma non ce la faccio Guarda Guarda si gira Si gira di traverso Il fenomeno Soffri come un cane Lurido infame Andiamo a prendere la stellina Andiamo a prendere la stellina Vabbè volete dare l'animazione con Mario Vabbè Troppo Ok siamo arrivati E direi che Qui si conclude Della nostra avventura di oggi Mi raccomando Iscrivetevi al canale Se il video vi è piaciuto Attiva della campanellina Ci vediamo il prossimo sabato Ci vediamo il prossimo sabato Con un nuovo episodio Ciao a tutti e grazie Da Mario e Company E nel frattempo abbiamo scoperto Una nuova galassia Tanto Dobbiamo farne ancora altre due Prima di questa E' apparso uno sfavillotto ghiotto Per salvare il gioco Si Poi saluti e baci Ciao a tutti e grazie